Con la manovra di bilancio dell'autunno bisognerà risolvere insieme dove trovare le risorse per sbloccare investimenti che servono al Paese e creare occupazione, come sistemare in maniera equa le partite relative all'alleggerimento fiscale secondo un principio di equità e quindi come dare una prospettiva a un Paese che ancora non è uscito dalla crisi e che giorno dopo giorno conferma una drammaticità della propria condizione del sistema produttivo e nel campo dei servizi. Credo che non dobbiamo illuderci che entro la fine dell'anno il Paese possa riprendersi, dobbiamo lavorare da qui alla fine dell'anno perché con la primavera possa anche riprendere effettivamente la nostra economia. Sono sei anni che stiamo andando male, stiamo toccando il fondo, dobbiamo aver toccato il fondo e dobbiamo risalire.